e adesso direttamente da visto questa bella intervista dedicata ad anna falchi che nasconde una ragazzina malinconica delusa e arrabbiata con il mondo perché ha scoperto da poco che babbo natale non esiste anna falchi l'attrice anna falchi anna falchi ha i ricordi della finlandia dove sei nata in finlandia c'è la città di babbo natale ravanieme in questo periodo dell'anno i ricordi tornano vividi da noi la natura è rimasta bellissima e incontaminata ricordo la casa di mia nonna vicina ad un lago era di legno caldissima e dopo la sauna in casa ci si buttava fuori nella neve anna falchi ti sei trasferita in italia quando avevi sei anni ho dimenticato la mia lingua solo quando sogno mi tornano in mente delle parole che mia madre deve tradurmi è stata lei a volere chiudere con il passato e la sua lingua d'origine di tuo padre non parli mai come mai sono 25 anni che non lo vedo non c'è stato quasi mai nella mia infanzia poi è sparito quando avevo 16 anni non ti ha mai più cercata mi ha cercata dopo quando sono diventata famosa però preferirei non toccare questo argomento cosa ti ha attratta del mondo dello spettacolo non è stata una scelta istintiva ma una necessità avrei voluto poter fare un altro percorso sono state le mie caratteristiche fisiche a darmi l'opportunità di accedere al mondo dello spettacolo c'era anche forte il mio bisogno di indipendenza e di autonomia usare il mio corpo la mia bellezza era la cosa più facile da fare anna falchi avevi in mente un'attrice come modello simonica vitti era mio idolo ma anche brigitte bardo la prima per il talento la seconda per l'avvenenza all'inizio tutti dicevano che le somigliavo anna falchi all'inizio quando possavi nudati sei imbarazzata per il primo scatto ero imbarazzatissima dovevo essere totalmente nuda sesa per izoma per intenderci elmuth newton era il fotografo e dovevo fare un poster per la rivista max ricordo che rifiuta e lo mandai a quel paese poi posai per giampaolo barbieri sempre nuda sempre perché il poster ma con la mano avanti il seno sì il sedere sì ma quella cosa lì no è davvero una parte troppo intima cos'è per te la trasgressione ci sono tanti modi di trasgredire nella vita privata non ho mai trasgredito sono una ragazza molto normale e con sani principi che ho sempre rispettato ho fatto cose scherzose e il gatti è alla mia professione ma non sono sono mai andata oltre ci sono molti con cui hai mantenuto un buon rapporto con il mio ex marito stefano ricuocci non per niente l'ho sposato ricuocci è stato l'uomo con cui ho avuto la relazione più lunga ho cercato di costruire un nucleo familiare ma purtroppo è andata come è andata avrei dovuto restare libera perché alla fine è stato un fallimento anna falchi un bilancio della tua vita mi lascio andare al fatto le cose arrivano e se ne vanno con un flusso naturale al quale non ci si può opporre la mia vita è cambiata dopo la nascita di mia figlia alisa prima vivevo per lavorare scegliendo solo le proposte più prestigiose ero molto selettiva e ambiziosa vivevo egoisticamente per me ora vivo totalmente per lei